Ben ritrovati gentili telespettatori, ben trovati con questa nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale che in apertura apriamo con la cronaca. Andiamo tra lo Pitergino Mottense e il Sandonatese perché emerge da indagini e da dichiarazioni appunto di pentiti o comunque attraverso racconti presi appunto dall'autorità giudiziaria che Matteo Messina Denaro, il boss dei boss, colui che ha preso poi le redini di Totori Ina, il boss della mafia, sarebbe rimasto nascosto in una cantina per 4-5 giorni addirittura a Salgareda, nello Pitergino Mottense. Allora facciamo il punto e sentiamo il servizio di apertura del nostro telegiornale. Una cantina di Campo San Pietra di Salgareda ospitato per alcuni giorni in un edificio di colore giallo Matteo Messina Denaro, il superlantitante della mafia siciliana, il boss dei boss di Cosa Nostra, erede di Totor Ina, ha svernato in Veneto ospite di Vincenzo Centineo, pure lui siciliano essendo originario di Gangi in provincia di Palermo, arrestato nel febbraio scorso nell'ambito dell'inchiesta sui casalesi di Eraclea. Lo fa emergere quest'oggi il gazzettino. Centineo infatti risulta in stretto contatto con il boss dei casalesi, Luciano Donadio, con il quale si sarebbe spartito il business del pizzo agli imprenditori veneti e dei prestiti a strozzo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Del resto, mafia Andrangheta e Camorra hanno spadroneggiato nel Veneto, in particolare nel Veneto orientale, a partire dagli anni Ottanta e Salgareda, dista pochi chilometri da San Dona di Piave che storicamente è stato il primo punto di approdo dei camorristi quando sono sbarcati nel nord-est al seguito della banda di Felice Maniero che aveva stretto accordi sia con la mafia palermitana, per l'eroina, che con la Camorra, per l'importazione di cocaina. E' il collaboratore di giustizia Emanuele Merenda, originario di Patti, in provincia di Messina, a raccontare il particolare clamoroso della latitanza veneta di Matteo Messina Denaro, 57 anni, considerato tra i latitanti più pericolosi e più ricercati al mondo. Dopo l'arresto di Riina, Messina Denaro diventò il capo dei capi e si dichiarò favorevole alla continuazione della strategia degli attentati di Lamitardi inaugurata da Riina, con le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, che portarono all'uccisione di Falcone e Borsellino. E infatti a Messina Denaro vengono attribuite le bombe di Firenze, Milano, Roma, che causarono dieci vittime e notevoli danni al patrimonio artistico. Nel novembre 1993 Messina Denaro fu tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe di Matteo per costringere il padre Santino a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci e dopo 779 giorni di prigionia il piccolo di Matteo venne brutalmente strangolato e il cadavere buttato in un bidone pieno di acido. Da allora Matteo Messina Denaro ha fatto perdere le sue tracce. Centineo mi ha detto che ha ospitato Matteo Messina Denaro per 4-5 giorni a Campo di Pietra e in un altro interrogatorio il pentito Emanuele Merenda aggiunge Centinaio mi ha spiegato che prestava denaro senza garanzie ad interessi elevatissimi mi ha anche detto che i soldi che impiegava provenivano dal gestore di una cantina di Campo di Pietra riconducibile a dei siciliani che erano dei pezzi da 90. Dunque potrebbe essere che tra i mille investimenti fatti dalla mafia siciliana nel nord Italia ce ne sia pure uno che interessa un'azienda vinicola di Ponte di Pietra con la caratteristica affacciata gialla nella quale Matteo Messina Denaro ha poi trascorso qualche giorno di latitanza al sicuro in un periodo storico che si colloca più o meno attorno al 2014. Ma Emanuele Merenda è un collaboratore giustizia attendibile? Gli investigatori ne sono convinti. Hanno controllato che quel pentito ha rivelato sulla banda di Casalesi di Reclera sulla testimonianza e ha portato prove ulteriori alla procura di Venezia. Dunque ha poco senso pensare che abbia raccontato il vero su Donadio e si sia inventato poi qualcosa su Cintineo per il quale lavorava come riscossore, mestiere che peraltro Merenda svolgeva anche per il canmo rabito della Andrangheta calabrese che aveva in attiglio Vittorio Violi residente a Marcon, il suo referente. Violi importava cocaina dalla Calabria, del resto l'Andrangheta detiene il monopolio dello spaccio in tutta Europa e si stima fatturi tra i 50 e i 100 miliardi di euro ogni anno solo con la cocaina e organizzava poi lo spaccio in tutto il Veneto mentre metteva anche a segno estorsioni e riscuoteva il pizzo dalle aziende del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Dunque Merenda appare credibile anche perché non ha fatto altro che confermare quel che era già saltato fuori dall'inchiesta dell'APM Roberto Terzo su Ereclea e cioè che il Veneto per un paio di decenni è stato il posto perfetto per l'Andrangheta, Camorra e Mafia per cui hanno prosperato in disturbate per lungo tempo e questo potrebbe spiegare dunque anche la presenza di Matteo Messina Denaro, il capo dei capi in Veneto. Parliamo ancora della megatruffa della Venice, la Venice Investment capitanata da Fabio Gagliatto. Secondo una rivelazione il tesoro di Gagliatto, quei risparmi più trovati sarebbero nascosti in Croazia. Fabio Gagliatto, il trader finanziario condannato ad oltre 15 anni di reclusione per una truffa milionaria ai danni di numerosi risparmiatori a ingenti somme di denaro ancora nascoste all'estero in Croazia. Lo sostiene il consulente del lavoro di Torre di Mosto, Angelo Di Corrado, in un interrogatorio sostenuto nel marzo del 2019 nell'ambito di un'inchiesta per la quale è stato arrestato lo scorso febbraio quella sulle infiltrazioni della Camorra nel Veneto orientale e sulla boss Luciano Doradio per conto del quale si occupò di frodi tributarie e altre illecite societarie che dopo l'arresto ha iniziato a collaborare con la procura. Di Corrado ha raccontato di aver incontrato Gagliatto durante l'ora d'aria nel carcere di Tolmezzo nel quale erano entrambi detenuti e di aver ricevuto da lui confidenze e proposte su possibili progetti futuri. Mi ha detto che i denari che lui ha investito e attualmente giacenti all'estero sono quelli dei Casalesi e delle acciaierie Valbruna. Mi ha anche chiesto di aiutarlo appena usciamo dal carcere creando una holding a Malta o Cipro che dovrebbe controllare una finanziaria incaricata di ottenere licenze ad operare nel mercato finanziario facendo così confluire il denaro che attualmente si trova in Croazia intestato a un prestanome. Verità o invenzioni? Quelle raccolte dal consulente del lavoro in passato molto bene introdotto in fincantieri e ora indagato anche a Roma per corruzione di un ex ambasciatore. Aspetterà agli investigatori scoprirlo anche perché la fila di chi deve avere soldi da lui è decisamente lunga. Resta il fatto che Di Corrado mostra di conoscerli in molti dettagli nei rapporti che Gaiato ha intrattenuto con il boss Donadio e con uno dei suoi uomini di fiducia Samuele Faè di Caorle il quale sostiene di aver perso nel crack della Venice Investment di Gaiato circa 7 milioni di euro parte di quali erano probabilmente del boss di Araclea. Secondo Di Corrado la rimanente parte del denaro era del titolare delle acciaierie Valbruna di Vicenza Michele Amenduini versione però poi smentita da Faè. La provvista che usavo era data dalla disponibilità di denaro che mi derivava dall'acquisto dalla Sineco di materiale minerale che pagava 60 giorni dalla data di consegna del materiale, poi rivenduto a prezzo maggiorato alle acceierie Valbruna con pagamento alla consegna del materiale o alla firma del contratto. Anche Gaiato lo scorso luglio ha accettato di rispondere alle domande del PM3 ricordando che fu Donadio a presentarsi da lui per sollecitarlo a restituire i soldi a Faè quando a causa della crisi di liquidità della Venice Investment iniziò a non onorare i suoi impegni. Tu non sai con chi hai a che fare, robinacciò il boss nel corso di un incontro al quale era presente Claudio Casella, l'ex carabiniere poi diventato imprenditore, anche lui indagato nell'inchiesta sulla camorra della Clea. In un verbale pieno di omisis Gaiato ha ricordato come successivamente entrò in scena un gruppo di napoletani che aveva investito con lui e che pretendeva di avere indietro i soldi. Sono andati da Donadio dicendogli che da quel momento avrebbero provveduto loro a riscuotere nei miei confronti e avrebbero poi dato la parte al Donadio per quella che riguardava Faè. Donadio aveva accettato, ha dichiarato Gaiato, facendo riferimento all'intervento di una persona le cui volontà Donadio rispetta e il cui nome è stato però secretato. Ma le cose non sarebbero poi andate secondo gli accordi. Gaiato sostiene che i napoletani hanno truffato sia lui che Donadio, riuscendo ad accordarsi con il suo commercialista e recandosi in Croazia per levare somme di denaro di cui si sono impossessati andandosene a prendere direttamente a Pola. Versione che non corrisponde però alle risultanze dell'inchiesta svolta a Pordenone dove Gaiato è già stato condannato e il commercialista contro cui punta l'indice figura parte offesa. Ora andiamo ancora a Porto Gruaro per parlare di una ragazzina che sarebbe stata violentata sabato scorso in una discoteca del Trevigiano, l'Odissea. Il titolare insieme ai suoi collaboratori hanno consegnato tutti i video, stanno cercando elementi che possano condurre gli investigatori al responsabile di questa presunta violenza. Si tratterebbe di un uomo che avrebbe ubriacato una diciottenne del Porto Gruarese. Sentiamo. Stupore e indignazione per la notizia del presunto stupro che una diciottenne del Porto Gruarese ha denunciato di aver subito sabato scorso da un uomo nei bagni della discoteca Odissea di Spresiano. Giannino Venerandi, proprietario della struttura, non si dà pace. Il patron di uno dei templi della Movida Trevigiana ha raccolto e poi consegnato ai carabinieri della stazione di Spresiano i filmati di tutte le telecamere interne al locale con l'ospicio che possano essere così trovati riscontri al racconto messo nero su bianco della ragazza. Venerandi ha chiesto l'uvi ai dipendenti che si trovavano in servizio durante la serata di sabato scorso quando si sarebbe consumata la violenza sessuale confermata poi dagli esami clinici svolti prima al pronto soccorso di Oderso e poi al caffoncello di Treviso dopo la formale denuncia presentata dalla studentessa veneziana ai militari della tenenza di Oderso. Il dispositivo di sicurezza dell'Odissea può contare solitamente tra i 12 e i 15 elementi che controllano e intervengono in caso di necessità ed eventualmente allertano le forze dell'ordine in caso di problematiche tra i clienti o persone moleste. Tra quelli che sabato scorso erano in servizio in base ad una rapida indagine interna ordinata dallo stesso Venerandi nessuno avrebbe notato nulla di strano o ragazze in particolare difficoltà. Nessuno si sarebbe rivolto ai buttafuori per chiedere aiuto. Appare inoltre improbabile che un uomo abbia trascinato in bagno una ragazza senza essere notato da nessuno dei responsabili della sicurezza. I servizi igienici del locale sono tra i luoghi più sensibili delle sale da ballo dell'Odissea. L'analisi dei sistemi di videosorveglianza mancando testimoni potrebbe essere decisiva nella risoluzione del caso. La giovane ha raccontato inoltre di aver bevuto un drink con quello che diventerà il suo aguzzino. Sarà dunque fondamentale accertare dalle analisi cliniche svolte domenica scorsa come se si ipotizza il cocktail offerto da questo uomo misterioso possa essere stato o meno adulterato o drogato per rendere la diciottenne più vulnerabile. Spetterà ora gli investigatori dell'arma coordinati dalla procura di Treviso mettere insieme questo complesso puzzle e fare luce sulla vicenda. Abbiamo saputo di questo episodio tutto da verificare solo lunedì pomeriggio riferisce Giannino Venerandi. Stiamo capendo cosa è avvenuto dato che il personale del locale, gli addetti alla sicurezza e chi lavora non ha notato nulla di anomalo. I bagni sono sorvegliati ed è impossibile che una persona entri in un bagno con una ragazza senza essere notato. Tra i clienti nessuno ci ha detto di una ragazza in difficoltà. Certamente ci dispiace. Il nostro è un locale sicuro e c'è grande attenzione. Siamo preparati a tutti i livelli. Come locale abbiamo firmato un protocollo di intesa con la questura che prevede la massima disponibilità con gli investigatori. Ora cambiamo pagina, andiamo a Motta di Livenza e parliamo di un viaggio nel sacro, quello tra il Piave e il Livenza. Gli studenti dello Scarpa, protagonisti di questo viaggio. Sentite. Si è svolta l'altra domenica al Duomo di San Nicolò di Motta di Livenza la visita guidata degli studenti dell'Isis Antonio Scarpa di Motta di Livenza nell'ambito della manifestazione Viaggio nel sacro tra Piave e Livenza promossa dall'istituto diocesano Beato Toniolo che ha visto l'apertura di dieci chiese nel territorio compreso tra Motta e Oderzo lo scopo di far conoscere il patrimonio in esso contenuto. Ad aprire la visita al Duomo è stata la straordinaria storia del cardinale Girolamo Aleandro, indiscusso protagonista della chiesa del Cinquecento. Gli studenti dell'Isis Antonio Scarpa hanno effettuato un'attività di ricerca con l'obiettivo di far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale nella consapevolezza che questo patrimonio sia un elemento fondamentale del territorio, della comunità, del paese, nel suo insieme, cuore pulsante dell'identità e della memoria collettiva. Gli allievi dell'Isis Antonio Scarpa si sono impegnati, oltre orario delle lezioni, ad approfondire la storia della terra e hanno creato un percorso volto a far conoscere i segni del tempo e degli uomini ancora oggi visibili a Motta di Vivenza. I segni oggetto di studio da parte degli studenti dello Scarpa sono state le chiese presenti nel territorio comunale, la Basilica della Madonna dei Miracoli e il Duomo del San Nicolò, beni straordinari che narrano la storia della nostra terra e al tempo stesso costituiscono anche la bellezza dei nostri luoghi. Gli studenti oggi si sentono i custodi di questi tesori. Educare alla conoscenza del patrimonio culturale significa infatti anche contribuire alla formazione di comportamenti fortemente connotati in senso civico, miranti a garantire la tutela partecipata e la salvaguardia del bene culturale come patrimonio della collettività. Il progetto dell'Istituto Scarpa, avviato ancora nel 2015-2016, viene impegnati oltre 20 studenti che frequentano le classi dalla seconda alla quinta dei diversi indirizzi liceali e cinque ex allievi dello Scarpa che attualmente sono all'università. Diversi gli appuntamenti offerti al pubblico in questi anni di attività come le visite guidate al sabato pomeriggio, rivolte alla cittadinanza, i percorsi mirati per gli alunni delle scuole del territorio, la presentazione delle principali opere in lingua inglese in occasione della visita dei paesi partecipanti al progetto Erasmus Plus nel gennaio del 2017. Continua intenso anche per l'anno scolastico in corso il lavoro di ricerca a testimonianza di quanto il territorio custodisca in termini di patrimonio culturale. E torniamo a Portugaro per ricordare Don Domenico, Don Domenico Sigalotti, il parroco più amato in discusso di questo territorio e non solo, lui che aveva anche raccontato a modo suo il Vangelo, proprio con la nostra emittente, il Vangelo di Don Domenico. Oggi c'è stato il funerale. Il vescovo della diocesi di Concordia Pordenone ha voluto ricordare Don Domenico come il pastore fra la gente. In 2000 per salutare Don Domenico, il pastore fra la gente, lo ha ribadito lo stesso vescovo della diocesi di Concordia Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, che oggi al fianco del vescovo emerito, Monsignor Ovidio Poletto, ha ufficiato il funerale di Don Domenico Sigalotti, deceduto a 96 anni. Era un pastore che camminava fra la gente e raccoglieva le persone che non erano solo nel suo gregge, ha ribadito Monsignor Pellegrini nell'Omelia, ma anche quelle che erano distanti per far parte del gruppo. Del resto Don Domenico era questo, un prete che sapeva raccogliere il buono di tutti, un sacerdote che a Portugaro ha lasciato un segno profondo per la sua umanità, bontà, disponibilità. È stato lui l'aggregatore del primo oratorio di Porto Gruaro, tanto da rendere il Pio X della parrocchia di Sant'Andrea un punto di ritrovo e di riferimento per tutti i giovani. Una esperienza che ha poi ripetuto con ulteriore successo anche nella chiesa della barata Maria Vergine Regina del Rione di Viale Trieste, che lo stesso prelato ha costruito, creando una parrocchia viva in cui ciascuno poteva sentirsi a casa. Lo stesso vescovo Pellegrini, dal pulpito, ha voluto ricordare anche il giorno in cui ha nominato il nuovo e attuale parroco, Don Andrea Ruzzene, al quale disse l'amando nella parrocchia di Don Domenico. A rimarcare come l'amato sacerdote abbia saputo seminare in un territorio che allora era solo di campagna. Nato nell'aprile del 1923 a Bagnarola, era stato ordinato sacerdote nel 1948. Da allora e fino al 1954 è stato vicario parrocchiale nel Duomo di Porto Gruaro, salvo poi diventare il parroco della chiesa di Villanova di Fossalta di Porto Gruaro. Nei 36 anni seguenti è stato invece parroco nella chiesa beata Maria Vergine Regina di Porto Gruaro, per poi trasferirsi alla casa di riposo Francescon. Avrei materiale per un volume su Don Domenico, ha ricordato invece in un post Don Fabrizio Detoni, assistente nazionale adulti dell'Associazione Cattolica e per nove anni capellano al fianco di Don Domenico. Ne ricordo le battute esilaranti, le riflessioni pastorali, virtù e debolezze, genialità ed intemperanze. Come dimenticare i commenti, gli appellativi della tonina, la perpetua. Pastore che si portava impregnato l'odore delle pecore. Mi è stato padre e madre, maestro di libertà e creatività. Tra le pubblicazioni di Don Domenico, anche quella dedicata al fratello Don Giovanni, deceduto nel 1987, con cui il prelato ha voluto ricordare le qualità di un amato fratello, amato moltissimo dai giovani. Qualità che lo stesso Don Domenico ha saputo raccogliere. Nel 2000 il comune di Portogruaro gli ha anche consegnato il premio Gervino e quest'oggi alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Portogruaro, Maria Teresa Senatore, con il gonfalone della città. Proprio negli ultimi anni Don Domenico si era avvicinato alla televisione e proprio su Media24 aveva il suo modo di trasmettere il Vangelo di Don Domenico. Capiamo pagina, apriamo di Sport, Volley, a Motta di Livenza, l'HRK Motta vince ancora, ora è seconda in classifica. Vittoria per 3-0 dell'HRK Motta che si conferma quindi seconda in classifica perché anche Porto Viro vince 3-0. Dopo le 23 vittorie consecutive c'è stata una battuta d'arresto domenica scorsa a Cisano ma la squadra ha convinto oggi di nuovo? Sì, abbiamo trovato dall'altra parte della rete una squadra che sta crescendo tantissimo, difatti i video lo dimostrano. Siamo tornati a casa nostra, siamo tornati a giocare nel campo che conosciamo. Io prima di parlare della squadra vorrei ringraziare per l'esima volta tutte quelle persone che ci preparano il campo per ospitare queste favolose partite perché loro lavorano ore e stra ore per farci trovare nel miglior modo possibile e per divertirci più che si può. Quello che avevo detto ragazzi oggi, divertiamoci, divertitevi. I ragazzi l'hanno fatto, l'hanno fatto con grande determinazione, con grande lucidità. L'ho detto ma l'ho ripeto, io ho la fortuna di avere due squadre praticamente e in qualsiasi momento ho delle alternative molto valide. Oggi diciamo che il sestetto tranne in qualche piccola pausa della partita si è espresso bene. Comunque bravi loro perché ci hanno messo in grosse difficoltà in tutti e tre i set. Tre partite giocate in casa, tre MVP diversi, sintomo che veramente è un collettivo molto forte, molto valido in tutti i suoi aspetti. Sì, abbiamo sempre qualcuno che per un motivo o per l'altro si esprime una spanna sopra. Però ripeto, io non guardo i singoli, guardo il gruppo. È un gruppo che ha un po' la faccia triste perché dopo tanto abbiamo perso una partita e alcuni vorrebbero giocare un po' di più ma quando il sestetto tipo oggi funziona è anche difficile, diciamo così, crearci dei cambi. La partita è andata per il verso giusto ma io torno a ringraziare tutti perché ripeto è un gran lavoro che facciamo in settimana sei contro sei perché io ho la fortuna di avere veramente 12-13 titolari. Lo diciamo sempre che il pubblico è forse l'arma in più di questa squadra. Domenica scorsa a Cisano erano più o meno 30 persone, stanno organizzando la trasferta per Porto Viro, insomma vi seguono sempre con grande calore e affetto. Sì, ripeto, pubblico, palazzetto, il Taraflex danno la luce diversa. Noi abbiamo i tifosi che come si suol dire ci fanno partire sempre da 2-3-0. Il tifo non è che carica a te ma da molto fastidio agli altri e in certi momenti della partita, come si suol dire, ci può servire. Siamo con Natalino che è il capo ultra della tifoseria che si fa riconoscere in tutti i palazzetti d'Italia perché anche domenica scorsa super presenti, super carichi a Cisano e stasera ovviamente tra le mura amiche non poteva mancare il caloroso supporto dei tifosi. Sì, era d'obbligo dopo la mezza The Black di domenica scorsa che nonostante tutto ci ha portato alla consapevolezza che abbiamo una squadra forte e che possiamo giocarcela in qualsiasi palazzetto. Questa sera torno soddisfatto da quello che ho visto, i ragazzi si sono ripresi e la cosa è più che positiva. Adesso viene la prima della classe, prima contro la seconda, sabato prossimo a Porto Viro. Conto che i ragazzi, i nostri supporti ci seguono in quel di Porto Viro appunto per sostenere la nostra squadra, sperando di portare a casa qualche punto, non dico la vittoria, magari un punto che sarebbe sempre necessario per muovere la classifica. Poi ci aspetta, penso, un'altra bellissima trasferta un po' più in là nel tempo che è quella di Trento che vorremmo comunque col discorso di Bercatini di Natale fare una bella gita e stare vicini alla nostra squadra. Ecco, quindi l'appello è quello di seguire numerosissimi la squadra non solo in casa ma anche in trasferta. Sì, abbiamo visto anche la settimana scorsa in quel decisano bergamasco che siamo arrivati una trentina di noi con il nostro piglio, la nostra voglia di divertirsi e abbiamo coinvolto anche il pubblico avversario che oltretutto ci ha applaudito e siamo tornati a casa col sorriso tra le labbra nonostante sia stata la sconfitta. Un bel esempio di spirito sportivo anche da parte della tefoseria avversaria. Allora, grazie, complimenti e ci vediamo a Porto Viro. Sicuramente, ciao! Gli scatti dal territorio ce li mostra Vinicio Scortegagna per Foto Reporter. Grazie a Vinicio Scortegagna e grazie a voi tutti per aver scelto l'informazione del Veneto orientale. Ci fermiamo con questa edizione e torneremo con le altre news nel corso della programmazione. Buon proseguimento con la nostra rete e a risentirci. Alla prossima!